Dottor Cohen, qualche libro bellissimo di favole sta trovando posto negli scaffali per gli ultimi lavori di modifica di questo reparto. Ce li vuole raccontare? Sì, il reparto comincia a prendere una forma di quasi un albergo di cinque stelle perché praticamente le stanze, come vedrete tra poco, sono stanze nuove, sono tutte all'avanguardia con una stanza che comprende televisore, videoregistratore, punti, rete di computer, eventuale telefono, posto letto per la mamma, oltre che per il bambino malato, stanze che sono di dimensioni più piccole in modo da ospitare solo uno o al massimo due bambini con un bagno attaccato, quindi colori belli che vogliamo sempre migliorarli in futuro, quindi sfondare questo colore bianco che è il colore principale, maggiore negli ospedali e quindi dare una sensazione di essere un posto accogliente, un posto non troppo rigido e non troppo freddo.